Quando i primi anni andavo al mare con i miei figli, le capanne erano messe parallele al marciapiede, per cui il mare era completamente chiuso da questo muro di capanne e c'era la spiaggia davanti, ed era bellissimo, per chi aveva la capanna era meraviglioso, perché non c'era niente, cioè uno vedeva tutta la spiaggia e poi c'erano queste capanne, ma mano a mano che la gente aveva i soldi per fare la capanna, si è dovuto pensare a altre soluzioni, quindi si è cominciato a fare i cortili che prima non c'erano, e questo ha reso secondo me mondello meno bello, infatti la cosa bella delle spiagge attrezzate è che finalmente la spiaggia è aperta, si vede, non è chiusa da questo muraglia di legno.